Mi ha detto di partire da lato sud del festival, vicino al circo, c'è la bambina, è qui? Lato sud, vicino al circo, vicino al grande aquilone rosso dell'Indonesia. Ecco Barresi, mi sto guardando intorno per... E si, ready? Allora, Barresi farà volare un aquilone, praticamente ha messo a terra qualche cosa dove passa il suo filo e l'aquilone gli volerà sulla testa. Guardatelo, è sulla sinistra, John Barresi, lui è capace di cose stranissime, questa è una. Voglio un grande applauso per lui, John Barresi dagli Stati Uniti. Giardino, da solo? Sì, da solo, ok. 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 Allora, 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 ok.